Ma tu giochi? Sì, abbiamo fatto una squadretta con qualche amico Chi siete? Eh beh, siamo io e mio fratello, Andrea Ripepi e Giovanni Grupi Quindi squadra per vincere? Non si sa mai, la palla è tonda Raccontaci le differenze rispetto agli altri anni, come ti stai trovando all'interno di questo terreno Che ho organizzato la di sconosciuti, insomma, per te Vabbè, le categorie, come sapete, sono queste Ci sono tante risposte a livello giovanile Un po' meno a livello femminile Diciamo che non è tanto bello, però Si prova anche a spingere a livello femminile E anche a livello di open Speriamo di avere tante iscrizioni Io seguo il tuo social e quello di tuo uggino Luca Le argomentazioni sono sempre le stesse Quando si ritorna in campo? Speriamo il prima possibile L'idea è quella sia mia sia di mio cugino Ma credo di tutti quelli che sono rimasti fermi in questi due mesi Di rientrare con l'energia al massimo Più carichi possibile Io durante quest'inverno mi sono allenato in tutti i modi possibili Anche lui Insomma, un po' tutti Hai mai sognato la tua partita del comeback? Sì, vabbè Non è che ci sia tutto questo Hai fatto virgola L'ho sognata, sì E stavo in panchina a bere acqua Perché sarei stato morto Stanco, però Spero di poter ritornare il prima possibile Bocca al lupo e dacci buone notizie Grazie Spero di poter ritornare il prima possibile Grazie 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 Grazie